Minima spesa, massima resa Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Nuova recensione di un prodotto troppo troppo bello Che ho casualmente, perché non lo conoscevo Acquistato su Amazon L'ho comprato io con i miei soldini Cercavo delle penne multicolor Che mi risolvesse il problema di avere un range ampio di colori E diversi finish E ho trovato queste, le neon color di Zixua Su Amazon, vi lascio il link qua sotto Qualora foste interessati E adesso vi faccio vedere se ho speso bene i miei soldi O se ho preso una fregatura Spostiamoci sul piano da lavoro e mettiamo alla prova le neon color Oggi una di quelle recensioni che mi piace tanto fare Minima spesa, massima resa Vi farò vedere come performano queste penne stupende Le color neon da un millimetro Della Zixua prese su Amazon Per caso, senza conoscerle Volevo un pacco di penne multicolor Con differenti finish Ho trovato queste ad un prezzo basso Le recensioni erano buone E quindi le ho prese alla cieca E mi sono trovata benissimo Ho fatto due lavori enormi Non mi hanno tradita Funzionano tutte E quindi adesso ve le devo recensire per forza Perché queste sono quelle penne da avere Quando si vuole avere un corredo Che sia il più variegato possibile Senza doverci lasciare su un occhio della testa Ok, iniziamo subito C'è molto da dire su queste penne Allora, queste penne sono penne in quattro finish Ora, io non vi so dire esattamente i singoli finish Le capisco dal tappo Quindi prendo tutte quelle Col tappo trasparente bianco E le proviamo per prime Dovrebbero essere le fluo Quindi ci sono 12 colori Che dovrebbero essere fluo Punta da un millimetro Proviamoli insieme Cominciamo subito Faccio dei quadratini Io spero che vediate Aspettate Per farvi vedere la pienezza del colore Sono penne roller Cioè hanno la pallina qui Che le fa marciare velocemente Ecco qua il giallo E riescono a fare sia un lavoro di campitura Che un lavoro di definizione a righe Per intenderci Giallo Un arancio un po' più carico La fluorescenza è buona Il tratto a momenti leggermente discontinuo Ma sono penne veramente veramente da poco Questo salmone Proviamo questo rosa pazzesco Questa tra l'altro è proprio la prima volta che le utilizzo Proviamo un rosa fucsia Bellissimo Sono delle penne effettivamente molto molto fluo Queste non le avevo mai usate Quindi quando le aprite per la prima volta È possibile che abbiate bisogno di un foglietto Per fare andare un attimino La pallina roll on E far cominciare a defluire l'inchiostro Cosa dire Il tratto non è pieno e continuo Come quelle con punta al feltrino Però vi posso assicurare Che è sovrapponibile da asciutto Per esempio Guardate qui Che c'è qualche righina più chiara in mezzo Una volta fatta asciugare Se io ripasso Vedete Il colore si riempie La cosa carina È che mi dà la possibilità Di creare anche disegni molto piccoli E la penna da un millimetro Effettivamente ha la punta Che promette Il tratto in certi momenti Si interrompe Ma per il prezzo che hanno Ragazzi sinceramente Ci ripasso insomma Ho invertito i colori Non è un problema Dipende molto dal colore dell'inchiostro Ce ne sono alcuni Che sono molto più fluidi Altri che sono leggermente meno fluidi Ma comunque Come vedete Tutti con i disegni piccoli Se la cavano egregiamente Colori C'è anche l'argento In questa gamma Che è un grigio metallizzato Glitterato Bene Fantastici Sono belli Anche per scrivere Quindi Abbiamo visto le campiture Le linee Adesso guardiamo la scrittura Beh che dire Scrivono Un tratto Continuo Scorrevole Molto Molto Buone Già solo queste Solo queste Valgono il prezzo Di tutta la confezione Vi metto il link Qui giù nel box info Ora ho preso Queste Che sono Col tappo Colorato E trasparente Scopriamo insieme Che finish hanno Perché io non lo ricordo Sono Le glitterate Bellissime Dei colori Pieni Con una Luminescenza Molto Molto Presente Molto Belle Queste Penne De glitterate Molto Molto Belle Belle allora le glitterate sono bellissime io non so se riuscite a vedere l'effetto glitter ve le muovo un po spero di sì perché l'effetto glitter è molto molto evidente spero che si riesca ad evincere sennò dopo vi faccio una bella foto mi sono accorta di aver sbagliato questo grigio perla fa parte di questa selezione che avendo il tappo grigio per la metà trasparente si confonde con gli altri ma queste perlescenti le riconoscete anche dal sederino trasparente quindi hanno sì il colore della penna però sempre con plastica trasparente sia nel tappo che nella nella parte finale nella coda che dire altre 12 penne bellissime funzionalissime i colori sono simili ed accordanti alla gamma fluo ma anche diversificati hanno una perlescenza fantastica che non riesco a capire se riesco a farvi vedere proviamo adesso quelli che dovrebbero essere i metallici anche questi dei colori bellissimi la la perlescenza è data da una glitteratura più sottile di quelli glitterati e poi sono molto più coprenti di quelli glitterati hanno delle tonalità più appunto metalliche un po più scure non so se riuscite a vedere come vedete fino ora ne abbiamo trovato ne abbiamo provate tre serie e funzionano tutti tutti e io già di questo sono rimasta stupefatta proviamo l'ultima serie che è quella normale la classica vediamo come colora questa è la neon quindi le serie sono simili a due a due ma anche diverse tra loro ora ve ne parlo faccio tutti i sample e dopo mi fermo e ve ne parlo ok abbiamo finito questa lunga carrellata di 48 penne tutte scriventi e il costo io esattamente non me lo ricordo anche perché su amazon variano continuamente quindi ve lo lascio scritto qui giù nel box informazioni abbiamo il fluo bellissime queste sono le più leggere come trasparenza poi abbiamo le neon toni spinti come nei fluo però la coprenza è maggiore le distinguete dal tappo crimi quindi dal tappo opaco del colore queste un po sparano agli occhi quando scrivete nel senso danno un po quel senso di occhio impallato perché vi vi stordiscono un attimo ma sono bellissime poi abbiamo le metalliche mettiamole qua sono queste col tappo perlato una coprenza maggiore delle glitterate dei colori un po più cupi è una perlescenza argentata mentre questa per le altre sono le glitterate che a differenza delle perlescenti proprio hanno dei granuli di glitter più grossi sempre che vanno e variano mentre qui sono tutte sull'argento qui invece ci sono alcuni toni caldi di glitteratura alcuni toni freddi alcuni toni colorati quindi sono tutte diverse partono da una radice similare come selezione colori per poi andare via via a differenziarsi perché vi ho fatto questi disegni ci ombretta sei pazza no vi ho fatto vedere la campitura completa vi ho fatto vedere le strisce in verticale verso il basso e in obliquo per vedere il pallino residuo che lasciano soltanto i neon poi vi ho fatto vedere disegni piccoli con movimenti circolari quindi seguono la curva e vi ho fatto vedere la cosa che è più difficile per le penne perché è data dalla fluidità che è la scrittura a me queste penne piacciono un sacco ci ho fatto due lavori che vi metto in foto adesso in questi lavori non ci sono solo queste penne ma queste penne mi hanno fatto sì che io possa aver avuto una differenziazione non soltanto di toni ma anche di finish in un unico disegno con sempre la punta da un millimetro quindi voto 9 ve le consiglio sì se vi serve una gamma di penne ampia affidabile che porti avanti dei disegni lunghi e ancora continui a lavorare come avete visto funzionano perfettamente unico cosa che vi devo dire che al momento del l'incipit della loro vita hanno bisogno di essere un attimino rollate per fare rollate in questo senso per fare in modo che la pallina comincia a girare e impastare il colore che poi viene espanso molto molto bene sul foglio quindi divertitevi a colorare il mondo vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo ciao 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 ora ditemi se non sono bellissime costano poco rispetto alla quantità di penne e veramente risolvono un sacco di problemi avete visto anche i lavori che ho fatto uno l'ho fatto anche con voi in presa diretta quindi potete benissimo vedere come funzionano sono delle penne che hanno un solo difetto in determinati momenti magari il flusso non è continuativo però se uno disegna in maniera veloce la cosa è molto molto arginabile comunque scrivono tutte scrivono bene finish diversi sono veramente glitterate quelle glitter quindi pollice in su è quel compendio semplice da avere che ti risolve un sacco di problemi bene prima di lasciarvi devo raccomandarvi una cosa venitemi a seguire su facebook perché dall'anno prossimo facebook col corso di disegno avrà una grandissima grandissima importanza perché sto progettando un corso di disegno per l'anno prossimo che abbia come punto focale proprio facebook quindi vi aspetto tutti i metti il link della pagina facebook qua sotto e poi sapete che su facebook sono presentissima quindi abbiamo un contatto in presa diretta si può dire rispondo da lì a tutti i vostri messaggi quindi scrivetemi se volete su facebook perché quella è la posta che io guardo di più perché siete tantissimi quindi devo scegliere a volte e quindi vi aspetto tutti sulla mia pagina facebook vi aspetto anche su instagram ovviamente vi metto tutti i link dei miei social qua sotto iscrivetevi così non vi perdete niente di arte per te su instagram iscrivetevi perché per l'iscrizione al corso di disegno la facciamo anche quest'anno da quella parte quindi insomma dislocatevi tra i miei social ma sicuramente troviamoci sempre qui per il prossimo video da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo la prossima volta ciao